Moro? Aiuto? Aiuto, Moro! Aiuto! Aia, la musica! Allora, prima di partire con questo video, che sta andando a 3 frame, ma non sono io, ragazzi, il gioco, si vede anche l'icona del mouse, va bene. Bene, allora... Quindi, perché siamo in due in un gioco che non è multiplayer? Ed è orribile, perché praticamente... Perché io oggi sono proprio uno malato, uno tutto stanco, tutto... L'ho obbligato a fare questo video. Esatto. Perché, per te, una farfalla gigante sta passando per lo schermo. Perché, un po' di tempo fa, siccome Moro e mio amico mi vuole bene, mi ha detto Marco, amico mio, ti regalo un bel gioco. Esatto. Eh, ecco qua cosa l'ha regalato, vedi? Eh? Adesso lui mi dirà cosa vede a schermo e io farò la reaction. Hai capito? Esatto. Hai capito a chi lo stai dicendo? Al pubblico. Ah, ok. Mamma mia, ora cosa scorda che bambina... che è un bambino, chiaramente. Questo qua è un bambino. Allora, io sono partito... perché non c'è un menù. Cioè, tu apri il gioco e ti entra nell'azione subito nel vivo. Non è che c'è... Bello, bello. Allora, sono davanti a questa bambina che ricorda un po' la bambina di Monster Allergy, no? Per esempio quella piccolina cicciola. Però è un uomo. Cioè, la tele... Allora, io sono fermo, ma la telecamera è girata sola, Moro. I comandi, i comandi... Sono molto contento. Perfetto, Moro. Non trarre subito... No, io non traggo nessuna conclusione. Più che altro non so come sistemarlo ora. Come vedete io sto muovendo il mouse, quindi... Allora, un secondo. Non rispondo ai comandi. Bene. Stoppo un attimo e torno subito, amici. Eccoci tornati. L'icona non si è per niente sistemata. La vedo ancora. Allora, in mano, come potete vedere, ho un pezzo di legno. Qui è un pezzo di legno. È un pezzo di legno. Poiché dovrebbe essere un flauto, immagino, un altro discorso. Mi sto avvicinando a questa grotta in cui prima mi sono glicciato. Intanto che sto guardando l'erba. È praticamente una montagna gigante blu-fosforescente, quasi viola. Anzi, forse più viola che blu. Ma quindi è un paesaggio astratto, un onirico, oserei dire. È onirico un po', sì. C'è un signore che sta facendo un rasengan con uno scudo. E ha la mia stessa faccia, tra l'altro. Quindi un nemico? No, sembra amichevole. Se primo è, mi dice le cose... Allora, vediamo subito in questa grotta. Ci sono degli alberelli presi direttamente dalla sceneggiatura del... Dall'icosi del fantabosco. I cristalli di Crash Bandicoot, vedo, impiantati nel terreno. Cristalli... ah, già. Quelli di cristalli di Crash Bandicoot. C'è degli occhi? Ci sono degli occhi. Tra l'altro è un casino muoverlo perché la telecamera va dove vuole. Credo ci siano pipisterelli, non lo so. Ah, nella grotta. Nella grotta. Sono adesso... Non mi dici. Ma c'è un signore simpaticissimo lì. Non posso guidare bene. Ma quindi c'è uno stato di ebretta? Come? Uno stato di ebretta? No, assolutamente no, guarda. Quest'aria non è available in alfa version. Come no? No. Quindi è finito il gioco. Eh, c'è un fiume rosa, una signora cicciona tipo una madonnina, non so. Io mi butto nel mare rosa. Non è vero, moro. Non mi butto nel mare rosa. Non si può. Ma che mi sono buttato nel mare rosa? Ah, bene. Ma quindi non si può. Premi e per l'azione. Ah, che sto suonando un flauto? Si sta aprendo un fiore? Sempre l'icona del mouse davanti. Hai trovato lo scopo? Devo aprire i fiori, quindi. Ah. Eh, c'hanno anche delle zolette di zucchero. Cosa fanno? Non riesco ad andarci sotto. Pelé! Roberto Baggio. Mi sono incastrato nella grafica. Aspetta. Un casino. Un fiore blu. Questo è diverso. Ripromiamo, suoniamo il trombone di nuovo. Beh. Sta suonando, c'è da mezzo di un quarto d'ora e venti minuti. Questo era blu di fiore. E cosa accade? Assolutamente niente. Si è aperto. E? E niente, si è aperto. Ho aperto due fiori. Uno blu e uno rosa. Vuxia. Ci sono queste zolette di zucchero che puoi calciare. Moro. Tipo così. Inzaghi. E le tiri. Pippo. Chi è Pippo, scusa? Inzaghi. Pippo! Pippa me! Ah, Pippo Inzaghi, è vero. Coglione. È vero dimenticato. In alto a destra mi dà gli FPS. Tra l'altro gira a 52. Quindi va bene. Ottimo, dai. Poi in mezzo qua, questa grotta, ci sono dei pilastri neri che non servono a niente, immagino. Ci sono sempre questi occhi che mi fissano, che non ho capito cosa vogliono. Moro, ho aperto tutti i fiori. Bene. Non ne manca uno, aspetta. Allora, adesso ho aperto tutti i fiori, Moro. Tutti quanti sono aperti. E indovina un po'. Dai, dimmi, sono molto curioso di ciò. Niente, andiamo fuori perché non è successo niente. Bene, bene. Andiamo fuori, andiamo fuori. Ma è anche molto veloce, vedete? Veloce, bello... Le animazioni sono fluide. Cattante, userei dire. Sì, sì, le animazioni sono fluide, lo vedo felice lui, quindi sono fluide, immagino. Sono in questo mondo dove ci sono delle fragole adesso che si possono calciare entrandoci dentro. Puoi calciare delle fragole giganti, Moro. Quindi è veramente il fantabosco questo. Un portale, attenzione. Abbiamo svoltato. Ci sono questi due pilastri con delle scritte magiche sopra e una luce che va verso l'alto. Il salto c'è? Non ho capito. Bello il salto. Adesso non lo descrivo il salto. Allora, il salto è il modello poligonale base, quello proprio, sai, l'uomo messo con le braccia sotto. Che è durissimo, fa dei saltini sul posto. Va proprio durissimo. Cioè, non è che... Non c'è l'animazione, è duro, duro, proprio. Posso fare anche il doppio salto. Niente, mi sta venendo da vomitare, mi fermo. Sono nel fascio di luce. E? La svolta? Cosa succede? Fa Michael Jackson dentro. No, sono dentro Michael Jackson. Niente, non... Cosa succede se mi giro così? Moro, magia. Il fatto, hai visto? Ho il piede perno. Guarda. Ci sono altre luci qui che non so cosa fanno. Alberi senza tronchi, ma con luci al posto di tronchi. Cos'è quest'albero, cos'è? Un altro sciodruido c'è qua. Un altro sciodruido. È sciamano, stavo dicendo. Questo mi dice la stessa cosa dell'altro, dicevo, ti do le cose. Cammini... Quest'area non è visitabile perché è un'alfa. Io voglio andarci lo stesso. Volando, a quanto pare. Quindi si può volare, è un supereroe questo. È un supereroe, a quanto pare. Ma la bimba... Aspetta un attimo, adesso mi sta venendo un dubbio, no? Cosa fa quella bambina all'inizio? Bambina, bambino. Cioè tu entri, sei con questa bambina? Eccola qua. Coop. Non capisce lei. È stranita lei. Non ha capito benissimo. Guarda, ad occhio e croce Moro finisce qui, questo gameplay. Bene. Aspetta, c'è una cascata. Fammi andare a vedere l'ultima cascata. Attenzione, attenzione, si finisce il gioco. Ehi, vedi, lo vedo felice comunque. È contento di stare in questo gioco lui. C'è un platforming da fare, non è finito niente. Qua si è aperto un mondo, aspetta. Vai, vai. Vai, caro amico, tutto duro. Sono nell'acqua. Bella, bella l'animazione di quando sei nell'acqua. Quindi nuota bene, sa nuotare. Sì, lo vedi che è a suo agio nell'acqua. Guardalo. Sono contento. Guardalo come è a suo agio. Possiamo dire che lo consigliamo a tutti questo gioco. Eh? Chiaro, chiaro, ma certo. Quindi grazie di questo regalo, amico mio. Non c'è di che. Sono molto felice. Un regalo un altro. Guarda, sono talmente felice, Moro, di questo regalo che ho deciso di suonarti una canzone. Grazie. Non lo sento. Grazie per aver guardato questo video. Moro, doppiamelo tu, vai. Doppia il personaggio e saluta tutti. Salve a tutti. Siamo qui, questa sera, per salutarvi in questo nuovo video. E noi ci si vede prossimamente con un altro video. Mi ricordate un po' Calderoli quando lo faceva Fabio De Luigi. Era lui, era chiaramente. Niente, al prossimo video, amici dei Termobastoni. Ciao. 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 Grazie a tutti.